Considero una cosa sulla quale bisogna essere estremamente prudenti, perché noi sappiamo che nei bambini molto piccoli l'impatto del Covid è un impatto che difficilmente produce rischi importanti e sappiamo anche che i vaccini con tutta la sicurezza che possono avere hanno un'autorizzazione condizionata perché hanno fatto le loro sperimentazioni in tempi molto rapidi, giustamente, perché comunque servivano e quindi siccome le medicine, i vaccini, da noi diventa tutta un'ideologia, ma sono strumenti e quando li usi per decidere come li usi devi valutare il rapporto rischio-beneficio. Io ho fatto vaccinare mia madre, penso, tra i primi a Roma, mia madre è una persona di 67 anni, è immunodepressa e quindi mia figlia di 5 anni non credo che la farei vaccinare.